Alberi a fusto lungo tagliati senza pietà nel boschetto ormai più che dimezzato presente nell'ex area Eni di via Cafiero a Barletta ad un tiro di schioppo dal castello. Immediatamente sul posto si sono riversati ambientalisti, cittadini e la polizia locale allertata dall'assessore all'ambiente Anna Maria Riefolo. Ed è proprio tra quest'ultima il sindaco Cosimo Cannito che si respira aria di scontro vista la divergenza di vedute sulla destinazione del luogo. All'interno dell'area da 17.000 m2 infatti dovrebbe essere realizzato un parcheggio da 200 posti auto, un punto di raccordo con la litorania Menea che secondo il sindaco avrebbe decongestionato il traffico e soddisfatto la richiesta di alcuni commercianti del centro storico. Decisione che è stata avvallata dalla regione con una determina dirigenziale del 23 settembre dopo decine di riunioni tra Comune, Arpa, Provincia Bat, Soprintendenza e Eni stessa. Dal progetto è prevista la messa in sicurezza permanente e la bonifica dell'aria, l'asportazione del vecchio terreno e la messa a dimora di terreno vergine con l'abbattimento di alcuni alberi. Eni ha comunicato al Comune dei lavori lo scorso 6 dicembre, nota protocollata dal Comune tre giorni dopo, in cui comunicavano l'avvio dei lavori a partire dal 12 dicembre, non rispettando il preavviso di 15 giorni concordato. Quindi al momento i lavori sono sospesi. La soluzione di creare in quell'area un parcheggio non mi appartiene a detto riefolo contattata telefonicamente. Ho invitato il sindaco più volte a convocare le consulte e a decidere assieme ai cittadini cosa fare o quali soluzioni alternative trovare. Dello stesso parere anche Rosa Cascella del PD che ha chiesto ai cittadini e gruppi organizzati di aiutarli nella realizzazione di un processo di partecipazione. Annuncia invece battaglia in Consiglio Comunale Carmine Doronzo. Qui invece mi pare che si stia andando da tutt'altra direzione. Si parla di cementificazione, si parla di parcheggi, cose che non sono richieste dalla cittadinanza. Quindi domani in Consiglio Comunale chiederemo di fare chiarezza, chiederemo di risponderci e chiederemo di rispondere ai reali bisogni della città. Che evidentemente non sono quelli di eradicare alberi ad alto fusto che in prospettiva avrebbero creato ombra, avrebbero creato socialità, avrebbero creato benessere.